Un buco di oltre 10 milioni di euro che ha trascinato negli abissi più profondi e nella disperazione centinaia di famiglie di lavoratori e emprenditori del comprensorio del Polline della Sibaritide che hanno fornito materiale e attrezzature per svolgere i lavori sulla statale 534, tanto decantati dall'ANAS, dal governo centrale e regionale, senza dimenticare le istituzioni locali e rappresentanti sindacali e quanto scrive in un comunicato stampa Roberto Senise, coordinatore cittadino di Forza Italia. La firma Sibaris Carle, che non è altro la Vidoni S.p.A., già nel mese di giugno 2015 metteva in gigo ordinario 50 unità lavorative tra tecnici e maestranze, mentre in pochi si adoperavano per completare la strada in piena estate quando la produzione doveva essere al massimo. Nessun proferì parole nell'ANAS, deputata al controllo, non ai sindacati che dovevano tutelare i lavoratori, né i sindaci del comprensorio che vedevano interrompere completamente un'arteria principale, mentre i fornitori e i subappaltatori soffrivano per ricevere il dovuto dei lavori che avevano effettuato. Ma la beffa maggiore per tutti, continua Senise, si materializza quando l'ANAS a dicembre 2015 rescide il contratto alla Vidoni S.p.A. e continua a pagare i sal, stato avanzamento lavori, fino ad un importo di circa 50 milioni di euro. Inoltre, con una commissione, esegue lo stato dei luoghi nei giorni 18, 19 e 20 giugno 2016, consentendo di smantellare il cantiere alla Vidoni da tutte le attrezzature materiali, proprietà dell'ente appaltante ANAS, per poi farsi presentare il conto, cioè la dichiarazione dell'autofallimento. Strategemi ignobili che distruggono intere comunità e le autorità preposte non possono ignorare, si fatta situazione, continua Senise. Perché l'ANAS non ha impedito alla Vidoni, dopo aver pagato tutti i sale, di potersi riprendere i mezzi nel cantiere senza accertarsi che i subappaltatori, le maestranze e i fornitori avessero ricevuto le spettanze dovute? Chi pagherà tutte quelle piccole e medie imprese del comprensorio che avanzano notevoli crediti e quei fornitori di servizi, alberghi, ristoranti, proprietari di abitazioni in affitto? Cosa succederà con l'autofallimento della Vidoni che ha creato incertezze e tempi biblici per il pagamento dei diritti acquisiti dalle maestranze relative al trattamento di fine rapporto della Cassa Integrazione straordinaria? Domande che si pone il coordinatore cittadino di Forza Italia, Senise. Le istituzioni, preposte a vario titolo, facciano piena luce sulla incresciosa vicenda in modo da garantire le dovute spettanze a tutti quei lavoratori che a vario titolo vantano crediti per il mantenimento della propria famiglia in un momento storico di grande recessione e sofferenza. La statale 534 di Camarate degli Stombi fa parte della struttura portante della rete stradale della regione, classificata anche come itinerario europeo, è 844 l'asse che permette il collegamento tra l'autostrada A3 e la statale 106 a servizio dell'area industriale di Camarate in una zona agricola in cui si producono agrumi, olive, riso e di forte propensione al turismo ricadente del comune di Castrovillare e Cassano Ionio. Il fermo dei lavori, conclude Senise, sta comportando notevoli disagi, non solo alla circolazione stradale in quanto il percorso alternativo si snoda su una complanare in configurazione, cantiere altamente pericolosa, e far sì che venga ultimata in breve tempo, consapevoli che con l'approssimarsi dell'estate e le difficoltà del traffico veicolare saranno notevoli, augurandoci che non si verifichino ulteriori incidenti mortali.